del Consiglio Comunale per trattare un unico punto all'ordine del giorno che ha un valore e un'importanza grandissima. Infatti andremo a approvare il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Gnoto. Abbiamo accettato sin da subito la proposta di conferire questa cittadinanza onoraria che ci era stata inviata dall'ANCI, quindi l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, su proposta del gruppo delle medaglie d'oro al Valor Militare d'Italia. Abbiamo aderito a questa iniziativa senza indugio perché riteniamo che conferire una cittadinanza onoraria al Milite Gnoto per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato per l'Italia e per quello che rappresenterà per l'Italia sia un fondamentale atto dovuto anche dal Consiglio Comunale di Siderno. Siamo qui questa sera nella sala del Consiglio Comunale di Siderno per presenziare, rispetto a un'occasione molto gradita a tutti, riguardante il conferimento della cittadinanza onoraria per il Milite Gnoto. Un'occasione che precede la festa del 4 novembre delle Forze Armate e che noi salutiamo come un giusto riconoscimento all'iniziativa che abbiamo avuto noi come Associazione Nazionale Maranile d'Italia per ricordare tutte le vittime delle grandi guerre del 1921 per il quale è ricorso il centesimo anniversario proprio l'anno scorso data della nostra richiesta proprio al Consiglio Comunale a Penenze di Atoci. e di qualche giorno fa anche l'attraversata del treno della memoria che è sostato a Roccella e noi abbiamo tributato con un solenne saluto proprio il treno che portò la salma del Milite Gnoto a Roma nel 1921. Grazie alle forze dell'ordine che sono qui presenti e che insieme a noi tributeranno questa solenne serata.